Un pulcino, un pulcino, mamma di miau, è contenta che la mamma è tornata a casa, amicetto, vuole bene alla mamma, non vuoi, vuole bene, puliamo il nasino, amicetto, la mamma di più, mamma di miau, appena tornata a casa, signore e signori, che vi devo dire, un successo straordinario, posso dire anche inaspettato, oggi che mi chiamassero a esibirmi davanti a tutti, a sorpresa, questo davvero non me l'aspettavo, e lei è contentissima di vedere la mamma, ora la mamma se la prende un pochino in braccio, se la prende, beh è scesa, e insomma oggi mi hanno presentato una signora in particolare, non posso fare nomi, non so, comunque una bravissima giornalista, presentatrice, una persona straordinaria, mi ha presentato come una persona molto eclettica, canto, suono, ballo, scrivo, però in effetti è proprio così, sono nelle mani della mistica essenza dell'universo, come tutti, un abbraccio.